Qual è l'antidoto della paura? E la risposta più ovvia è il coraggio. Non è il coraggio. Quando la paura arriva nella mente di una persona, ha già vinto, domina tutto. Il coraggio che cos'è? È una reazione alla paura. Quando tu sei coraggioso, stai facendo qualcosa per impedire che la paura ti diriga. Ma è la paura che comanda. Stai facendo il contrario di quello che vuole la paura. È sempre lei che decide. La paura va presa da prima. La paura si sconfigge cambiando completamente la situazione in cui sei. La paura si sconfigge attraverso il desiderio di conoscenza di qualcos'altro, attraverso il cambiamento radicale della tua personalità. Non si tratta di affrontare la paura. Si tratta di essere più grandi della propria paura. E questo si può ottenere solamente crescendo al di là delle proprie possibilità. Come? Facendosi domande. Le domande più interessanti, le domande più profonde, le domande più autentiche. Il desiderio di conoscenza è il vero nemico della paura. È il suo antidoto.